Situazione difficile a causa del maltempo anche nella provincia di Isernia. Sospesa la circolazione dei veicoli commerciali superiori a 7,5 tonnellate sulla rete extraurbana Pentra e dalla Prefettura l'invito agli automobilisti ad utilizzare gli autoveicoli solo in caso di assoluta necessità, muniti comunque dei presi di antineve. Continua poi senza sosta il monitoraggio dei carabinieri impegnati a fornire assistenza alle popolazioni locali e in particolare agli automobilisti. Tutte le unità dell'arma sono costantemente radiocollegate con la centrale operativa che garantisce la presenza di personale specializzato per rispondere a tutte le richieste di aiuto che pervengono dai cittadini attraverso il numero unico di emergenza 112. I militari sono già intervenuti impiegando anche il gatto delle neve in dotazione soccorrendo 20 persone tra cui tre bambini che a bordo di 5 autovetture erano rimaste isolate a causa delle abbondanti precipitazioni nevose nella zona di Capracotta. A Pesco Pennataro toccati 200 centimetri di neve e disagi per la popolazione mentre restano operativi 24 ore su 24 e i mezzi spazzaneve nella disponibilità del comune. Difficoltoso il transito dei veicoli in direzione Castel di Sangro è completamente bloccata la provinciale in direzione Agnone, richiesto in tal caso l'intervento dell'ANAS.